Sì, partendo in gara, scuola di cadente 2-0. Terzo, si tratta Maggi, atletica Lecco Colombo Costruzioni. Seconda, Rebecca Pasquari, atletica Mariano Povetti. Chi è andato a dar aliceo? Chi è andato a darmi costruire? È un po' dià, perché ti posso darmi s purchavi? La scuola è la faccina. Prendici, quella deve assumere la scuola di dubbio, mettiamo in una scuola di complimenti. Come sai questo Música? Dai Miriam! Dai Miriam! Vai Arianna! Vai Arianna! Vai Arianna! Vai Arianna! Vai Arianna! Non stai messa mai! Non stai messa mai! Dai Lisa! Dai, dai Lisa che è buona! Dai Miriam! Dai Marti! Dai Miriam! Dai Miriam! DaiRi! Dai Mariana! Dai Miriam! Dai Miriam! Ah! Hi! I Yeah! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!